siamo qui al lago di tovel in barca abbiamo una doppia cattura di salmerino un double doppia cattura stefano dove ce l'hai salmerino adesso andiamo a riprendere il salmerino di stefano eccolo un salmerino alpino bello colorato è circa sui 22 centimetri adesso lo porterà in barca e adesso andiamo a vedere quello di sebastiano sebastiano portacelo qui a fianco portacelo da questa da questa qua sebastiano eccolo tienimelo un po sul pelo dell'acqua ecco perfetto anche questo un bel salmerino leggermente più piccolo colorazione stupenda portacelo un attimino più verso ecco verso di fuori si va quella ecco perfetto tutti e due catturati con la camola esatto tutti e due con la camola abbiamo già avuto altre catture e delle mangiate oggi si prospetta un giorno molto prolifico per la cattura di salmerino ottimo ottimo